è nuovo ahi, per il puente Degas Quanto era l'oltre calore? Sono due, io con una pistola e mi quito il motore 18 mil pesos e la cartella completa me lo quitarono e tiene 18 mil pesos e io lo comprei il motore ayer e poi 32 mil pesos ayer lo comprate? si ayer, me lo quitarono oggi sono 50 mil pesos Tutto il motore andro Imbetco MOTOR